ti prego non è vero dai 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 vai cioè due bicchiere di vino casa stracuzzi chi parla rosa sono io ti rubo solo un minuto devo chiederti un favore guarda che l'abbiamo già finito adesso però stiamo bevendo champagne rosa ascoltami solo agli ordini commissario dovresti aiutarmi a cercare delle signorine del mestiere donna di lusso però che avevano come cliente un certo Antonio Migliorini un industriale molto drenco mamma mia ma cosa c'è di divertente? nulla potresti chiedere alle tue amiche per favore questo Antonio Migliorini è stato ammazzato è una cosa importante non lo so vai che le puttane sono importanti rosa lo farai ricorda questo nome Antonio Migliorini oh si certo ho capito non te lo dimenticare gira e rigira va sempre a finire a puttane dai ti richiamo domani divertiti ciao ciao ringrazio tutti per la partecipazione vi dico il prossimo appuntamento che sarà venerdì 5 dicembre sempre presmurate e avremo l'opportunità di conoscere Fabio Genovesi uno scrittore tra l'altro anche molto amato da Marco Vichi infatti Marco credo che sarà presente nel pubblico questa volta e presenteremo Fabio Genovesi con Eschevive quindi l'appuntamento è al 5 dicembre vi ringrazio ancora buona serata a tutti grazie 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 grazie